vandalismo all'agrario cecchi devastate aule depositi nuovo ab vaccinale marche multiservizi apre alla sede di via toscana pesaro studi prezzi calmirati per gli alloggi studenteschi cavalca ferrovia ad ottobre l'assegnazione del bando a pesaro la nazionale basket solde per il primo memorial ranocchi una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati a rossini news ben ritrovati al telegiornale del canale 80 che in questa edizione di mercoledì 3 agosto apriamo con un episodio di cronaca che arriva da pesaro e che ha avuto nell'istituto agrario cecchi il bersaglio di una serie di atti di vandalismo davvero sconsiderati avvenuti questa notte studenti in vacanza ma scuole che purtroppo ad agosto si popolano di ospiti estremamente sgraditi come quelli che nella notte appena trascorsa hanno vandalizzato l'istituto agrario cecchi ignoti si sono infatti introdotti a villa caprile devastando diversi locali a servizio dell'istituto superiore in particolare l'azienda agricola interna al perimetro della villa vandali che si sono accaniti sulla tensostruttura della rimessa attrezzi distrutta e completamente da ricostruire vandali che sono penetrati anche all'interno dell'officina dove hanno preso delle piccozze e delle tronchesi con cui danneggiare gravemente magazzino locale cucina e aule container violata pure la mensa in cui sono stati distrutti i prodotti alimentari della dispensa sono stati aperti i frigoriferi sottraendo vini spumanti e bibite così come sono stati danneggiati gravemente materiali elettronici come telefoni e pc i vandali sono entrati anche in una classe container da una finestra scorrevole mettendo completamente a soccuadro locale anche in questo mese di agosto la scuola aperta in particolare al pomeriggio dove si organizzano le visite guidate a villa caprile operatori scolastici presenti pure al mattino tant'è che i primi arrivati alle 7 30 si sono trovati davanti uno scenario di estrema devastazione subito allertato il 113 che poi si è avvalso dell'intervento della polizia scientifica per i rilievi delle diverse impronte presenti indagini in corso in tutta la giornata odierna così come nei prossimi giorni con la vicepreside chiara fiorucci a coordinare la mara conta dei danni e degli ammanchi da eventuali furti per avere tutti i dettagli utili alla denuncia prontamente avvisata la dirigente scolastica donatella giuliani che in ferie è prossima al pensionamento così come il futuro preside riccardo rossini che a settembre si insedierà dopo decenni di servizio al liceo marconi indagini che hanno un filo diretto naturalmente con l'amministrazione provinciale ente deputato al coordinamento e manutenzione degli istituti superiori il presidente giuseppe paolini ha espresso ferma condanna per l'accaduto e promesso il massimo impegno per ripristinare le attrezzature danneggiate il dirigente dell'edilizia scolastica provinciale maurizio bartoli ha garantito che una volta avuto il quadro completo dei danni scatteranno immediatamente le procedure con l'assicurazione pesaro è pronta ad avere un nuovo hub vaccinale dopo che la chiusura dell'ex ristò al rossini center aveva costretto nelle ultime settimane a migrare verso fano o urbino coloro che volevano sottoporsi alla quarta dose o ad altre dosi dell'essiero anti covid è stato infatti trovato un accordo fra area vasta 1 e marche multi servizi che ha dato la disponibilità della struttura di via toscana per l'attività di hub vaccinale sono comunque in corso le verifiche del caso per l'idoneità dei locali utili all'avvio dell'attività vaccinale mancano meno di due mesi alla riapertura di pesaro studi e oggi il comune di pesaro ha siglato un protocollo con apa hotels per alleggerire le spese di alloggio agli studenti universitari che verranno a risiedere in città in vista della riapertura settembre di pesaro studi con due corsi di laurea pronti ad iniziare il comune di pesaro ha siglato oggi con apa hotel un nuovo protocollo un accordo che prevederà per tutti gli studenti che frequenteranno l'università di pesaro di godere di hotel e residence a prezzi calmerati abbiamo avviato un percorso e anche un aiuto un'accoglienza ai ragazzi che verranno a studiare presso la nostra città cioè come comune non abbiamo solamente voluto dare le sedi per l'università ma è anche giusto appunto i ragazzi che vengono a studiare presso la nostra città di avere tutti i comfort e la possibilità in questo momento mi sento anche di lanciare a conf commercio confesercente cna la possibilità tramite i loro associati di far avere ai ragazzi che vengono a studiare presso la nostra città dei prezzi calmerati io ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto fino adesso siamo molto soddisfatti come amministrazione perché non pensiamo solamente allo studio ma anche a tutto quello che crea ai ragazzi che vengono nella nostra città e che possano dire di essere stati bene a studiare presso la città di pesaro un protocollo che comprende il periodo tra il primo ottobre 2022 e il 30 giugno 2023 e che mette a disposizione degli studenti universitari fino a 40 posti letto in camera doppia 300 euro mensili a persona per l'appartamento in residence con camera doppia mentre 380 al mese per camera doppia in alberghi due tre stelle dagli alloggi a prezzi calmerati per gli universitari passiamo ora ad un altro argomento che è stato approvato oggi dalla giunta comunale ovvero il progetto esecutivo per il termine lavori del cavalca ferrovia con il bando che partirà dopo ferragosto e con l'assegnazione dei lavori alla ditta che arriverà entro il mese di ottobre sarà un intervento da 3 milioni di euro che il realizzerà totalmente tramite i fondi del pnrr ottenuti a novembre 2021 e finalizzati al miglioramento della sicurezza al transito e all'eliminazione dei fenomeni di percolamento che provocano degrado delle sottostrutture quattro le macro operazioni previste il rifacimento dei cordoli di bordo ponte laterali la sostituzione delle barriere di sicurezza la sostituzione degli attuali giunti di dilatazione sotto pavimentazione e il rifacimento del sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche cambiamo argomento apriamo la pagina di cultura parlando delle celebrazioni dei 600 anni del duca federico da montefeltro che ora si arricchiscono di una nuova mostra ispirato al lavoro di ricerca di nando cecini nel contesto delle celebrazioni dei 600 anni della nascita del duca federico da montefeltro rientra anche la mostra intitolata il lettore provveduto un lavoro frutto della raccolta della serie di testi storici conservati da nando cecini dove viene riportata la memoria letteraria della provincia di pesaro urbino e della città di urbino in particolare dal 1480 ad oggi quello è il catalogo di guide che cecini ha raccolto nel volume la memoria di carta e che ora si traducono in una mostra che si terrà nel pallazzo delle collegio raffaello di urbino dal 4 agosto al 5 settembre mostra che è stata presentata all'hotel excelsior di pesaro la mostra è praticamente la trascrizione materiale del testo perché la gente no vedendo esposti libri percepisce le sensazioni che magari ha conosciuto attraverso la lettura del catalogo il catalogo invece la memoria di carta mentre la mostra è intitolata il lettore provveduto no perché si presuppone che il catalogo sia stato letto ci si innamori di urbino e si va a vedere le mostre e nel corso di 60 anni ho raccolto una dignitosa biblioteca con un particolare riferimento alla raccolta di libri che si riferiscono alle marche urbino ma anche pesaro fanno e tutta la regione in questo contesto è nato un omaggio personale alla città di urbino e d'altra parte una testimonianza di uno studioso in un tema vi dirò piuttosto disatteso no perché tutti parlano di storia dell'arte di architettura di come dire ovviamente di economia e quella che è la parte letteraria e soprattutto poi la parte guidistica o della letteratura periegetica vengono piuttosto disattese la mostra avverrà a collegio raffaello nel cuore della città proprio vicino a piazza della repubblica perché perché riteniamo che è una mostra di un grande interesse raccoglie tutte le guide che sono si sono realizzate nei secoli ma da un escursus quindi di quello che sono state le impressioni dei viaggiatori e come questi questi scrittori questi protagonisti hanno voluto comunicare urbino questa mostra come ho detto prima dà anche il senso di un territorio che che si muove un territorio provinciale che è rappresentato nelle tante guide ed è un territorio ricchissimo un patrimonio storico culturale un patrimonio immateriale che vede in queste guide rappresentate tutto e descritte tutto quello che possiamo offrire ai potenziali visitatori sono attualmente in corso sul territorio provinciale diversi interventi di marche multiservizi di potenziamento della rete idrica e manutenzione dei serbatoi lavori che domani comporteranno interruzioni o cali di pressione dell'erogazione dell'acqua in tre comuni in particolare domani giovedì 4 agosto saranno interessate dalle 8 e 30 alle 18 le abitazioni dei comuni di coglie al metauro e mombaroccio situate in via mombaroccese via montemattera via montemarino e via grignano sempre domani dalle 8 e 30 alle 12 e 30 analoghe criticità a cagli in strada fontetta e in parte di via flaminia l'ambasciatore della georgia costantine surgulazze è stato in visita a pesaro ospite del vice sindaco vimini e del presidente del consiglio comunale perugini dopo le interruzioni da pandemia riprende dunque un rapporto di cooperazione internazionale all'insegna della cultura è infatti prevista la firma di un protocollo di collaborazione fra la città di batumi e le istituzioni culturali artistiche cittadine conservatorio rossini in primis e passiamo a urbino il rettore dell'università carlo boh giorgio calcagnini e il prefetto lamberto giannini capo della polizia hanno siglato a roma nella sede del viminale una convenzione destinata alla formazione e all'aggiornamento giuridico ma anche a quello della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro una iniziativa che ha preso le mosse dal dipartimento di giurisprudenza dell'università di urbino e dall'osservatorio olympus sulla sicurezza sul lavoro presieduto dal professor paolo pascucci una convenzione che è davvero motivo d'orgoglio per l'ateneo riconosciuto per i suoi alti valori nella formazione alla sicurezza sul lavoro e oggi invece dalla palla di pomodoro è partita la pesa roma si tratta di una pedalata da pesaro a roma contro la violenza sulle donne un'iniziativa nata nel 2011 da olivie mani che tiene alta l'attenzione sulla problematica sociale protagonisti di questo viaggio 11 uomini che per i primi chilometri sono stati accompagnati dall'assessora mila della dora e dall'associazione percorso donna passiamo a carpegna comune che promuove l'arte inclusiva con carpegnart artisti nel montefeltro 2022 si tratta di una mostra collettiva di pittura scultura e arti visive che è stata inaugurata sabato scorso al palazzo dei principi di carpegna come primo evento del festival cultura d'estate montefeltro 2022 l'evento promosso per la terza edizione è visitabile a ingresso libero fino al 4 settembre e domenica 7 agosto invece arriverà a pesaro la nazionale italiana basket sorde per prendere parte ad una iniziativa molto particolare che vi illustriamo in questo servizio la nazionale femminile italiana di basket sorde torna dopo quasi dieci anni nella sua pesaro città in cui è nata il 7 di agosto le azzurre silenziose scenderanno in campo per un amichevole contro l'olimpia basket pesaro a culminare un progetto volto a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa delicata intraprendente realtà l'occasione è questa per riportarla dopo che ha vinto la medaglia d'oro all'europei e la medaglia 300 all'olimpiadi sarà a pesaro il 7 di agosto alle ore 18 nel campo all'aperto della parrocchia di san carlo borromeo a pantano l'ingresso gratuito il memorial è giovanni ranocchi il nostro primo sponsor e ancora attuale sponsor perché la figlia continua le sue gesta la famiglia ranocchi è vicina a nazionale dagli albori e quindi è un omaggio un ricordo a giovanni che ci ha sostenuto da inizio quando ancora eravamo scarse il 7 di agosto c'è questo appuntamento importante siete main sponsor ma sentite lo sentite vostro anche perché il primo memorial di vostro padre prima mario al giovanni erano chiveatrice elisabetta da tempo mi dicevano per ricordare tuo padre sempre legato così allo sport così legato alla squadra quale cosa migliore che giocare una una partita in sua memoria e quindi questo veramente una cosa che a me a tutta la mia famiglia fa molto piacere perché veramente sarà un momento comunque di di scambio di crescita di visibilità per la squadra che ne ha tanto bisogno di essere sostenuta e conosciuta noi appunto l'abbiamo sempre fatto mio padre sempre fatto dall'inizio e continuiamo con tanto entusiasmo anche con altri progetti poi in futuro e per quanto riguarda il basket sword se siamo già siamo già determinati a seguirli per i prossimi anni quindi andremo di nuovo agli europei mondiali abbiamo già le idee molto chiare prima di tutto è un progetto donna e quindi sosteniamo le donne che ancora oggi viviamo in delle situazioni complicate ne sentiamo tutti i giorni voi come televisione raccontate queste questi a disagi questo è un progetto che mi è piaciuto molto sin da subito l'ho pensato e l'ho voluto e l'ho sostenuto andando anche un po contro a volte a qualche pensiero che non voleva che sostenessimo una squadra femminile persone che si autofinanziano perché non hanno finanziamenti chiamiamoli tra virgolette statali e quindi bisogna supportarle e incitarle a vincere sempre di più invito a cittadinanza a venire alla e alla partita anche perché per chi volesse può anche fare una piccola donazione affinché le ragazze possano sostenersi fino alle ai prossimi mondiali che saranno a creta a giugno 2023 e le spese sono tante quindi se anche una piccola contributo per noi sarebbe importante e parliamo di calcio il 28 agosto inizierà il campionato di serie c e oggi con 25 giorni d'anticipo la vis pesaro ha presentato la sua campagna abbonamenti nella sede delle main sponsor tecnoplast una campagna incentrata soprattutto sui regali regaliamoci emozioni insieme era lo slogan iniziale poi lavorandoci sopra l'avrei fatto come la vis vi regala partite perché forse è questo diciamo più lo scopo perché le partite le giornate bianco rosse non ci saranno più sono state conglobate nell'abbonamento e nel totale dell'abbonamento ci sarà uno sconto del 10 per cento quindi di più non si poteva fare oggi pomeriggio già da oggi i botteghini sono a vostra disposizione per informazioni per prezzi anche per acquistare gli abbonamenti però la coperta viene confermata su 300 euro il prato 150 euro e la laterale 150 euro poi prezzi scontati con ridotto e ridotto ricordiamo possono essere rivolti e fatti dalle donne dagli invalidi che vanno dal 50 per cento al 99 per dagli under 15 e dagli over 65 questi fanno parte dei ridotti ridotti sono al prezzo di 250 la coperta 120 la laterale e il prato i ridottissimi perché anche i bambini devono avere il loro spazio il loro posto numerato è un'organizzazione che si è data proprio tutto il mondo professionistico avranno la possibilità di occupare il posto con 15 euro in tutta la stagione comprese ripeto non mi stancherò di dirlo le giornate bianco rosse le offerte particolari sono riferite alle famiglie alle famiglie con nuclei di tre persone poi abbiamo delle offerte particolari per gli amici da portare da avvicinare allo stadio abbiamo un'offerta particolare anche per chi vuole acquistare la maglia una maglia originale della della vispesor che andando in prato può acquisire acquistare con un prezzo agevolatissimo quindi tutti i bambini che praticano dello sport e delle altre società possono acquistare un abbonamento per vedere la vispesor per venire a vedere la vispesor e ancora tutti i tesserati della vispesor che sono talmente tanti non potremo occupare 500 posti per solamente la vispesor infine grande interesse sicuramente ci sarà quando pubblicizzeremo promuoveremo l'iniziativa delle scuole nelle scuole per le scuole medie inferiori e per le scuole medie superiori questo partirà con una dovuta presentazione durante il settembre all'inizio del dell'anno scolastico vedrete che saranno delle cose interessanti 2 agosto 1982 2 agosto 2022 ieri il tennis club baratov ha celebrato i suoi primi 40 anni un grande anniversario che ripercorriamo grazie all'intervista della nostra emanuela rossi al presidente del circolo gino bruscaglia ci troviamo con il presidente del circolo tennis gino oggi siete qui per festeggiare i 40 anni del circolo tennis baratov raccontato da me la storia è un po difficile perché io sono presidente da neanche un anno e sono un pesarese da sei anni perciò amando tanto il tennis e frequentando questo circolo poi mi sono avvicinato sempre più mi piace essere anche un po prima nel direttivo nel cda per coinvolgere essere coinvolto nelle decisioni finché questo passo presidente la storia qual è la storia di un gruppo di amici appassionati di tennis negli anni nel 79 che decidono non so per quale vicissitudine di distaccarsi dai dai circoli pesaresi e creano questo circolo comprono la terra impostano questa cosa insomma tutte le vicissitudini affinché il 28 2 agosto 1982 inaugurano i campi da tennis e oggi è 40 anni che giochiamo su questi campi su questo bellissimo posto siamo 230 soci abbiamo la top school una scuola tennis con più di 130 ragazzini guidata da luca pavoni maestro federale di un certo rilievo abbiamo cinque maestri che insegnano tra questi ragazzini abbiamo luca nardi che il nostro fiorello chiello e non soltanto della barato ma penso delle marche e anche dell'italia è uno dei nuovi giovani in crescita e che dire bello di vedere questi ragazzini che approcciano al tennis per un appassionato come me e gioia progetti futuri per questo circolo progetti futuri imminente due barra tre campi da padol perché oggi padol proprio ne parlano tutti ci giocano tutti questa è la prima cosa e poi anche rinnovare un po le coperture che hanno 40 anni un po la struttura 40 anni qui comincia ad avere anche se un quarantenne oggi nel pieno delle forze le strutture no e perciò questo è il nostro il nostro futuro e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale rossini news prima di salutarci vi ricordiamo come di consueto la nostra prima serata che parte alle 21 e 20 col nostro speciale realizzato in occasione della rassegna 2022 note oliveriane in particolare vi mostreremo l'ultimo appuntamento della rassegna con una serata finale dedicata all'opera artistica di renato carosone appuntamento dunque alle 21 e 20 a seguire alle 21 e 40 le nostre telecamere si spostano a monte labate dove il 30 luglio scorso si è tenuta la settima notturna tra i vicoli di monte labate un evento podistico inserito dentro la sagra delle pesche di monte labate e infine l'informazione su rossini tv che torna puntuale domattina con buongiorno rossini la nostra consueta rassegna stampa dei quotidiani locali della provincia di pesa robino che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato sempre in diretta dalle 7 e 20 domani sarà con voi per la lettura dei quotidiani il nostro antonio astuti ed è davvero tutto per questa edizione delle telegiornale rossini news da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti